16 anni e 9 mesi di reclusione e la sentenza emessa dalla corte di assisi di lucca nei confronti di roberto romanini l'imprenditore di camaiore accusato di aver sequestrato l'ex socio in affari il fatto risale al 2006 ma romanini fu arrestato dalla polizia nel febbraio 2013 secondo l'accusa l'imprenditore che a quel tempo era la guida di una società che commercializzava funghi attraverso un filmato compromettente luci rosse e un sequestro lampo aveva estorto a un imprenditore italo finlandese la firma di un contratto capestro attraverso il quale obbligava la vittima a pagargli oltre 3 milioni di euro l'imprenditore oggetto dell'estorsione aveva denunciato il fatto ma non trovando riscontri la procura aveva archiviato il caso la prova decisiva era venuta fuori nel corso di una perquisizione nel giugno del 2011 effettuata dalla polizia in casa di roberto romanini nell'ambito delle indagini sull'omicidio del cugino stefano nell'abitazione romanini teneva nascosto il filmato hard con cui aveva minacciato l'imprenditore finlandese proprio nei giorni scorsi roberto romanini è stato rinviato a giudizio anche come mandante dell'omicidio del cugino nel processo che prenderà il via lucca il 12 maggio